30 relatori da tutto il mondo per un convegno internazionale per ricordare i 100 anni dalla morte del maestro a Lucca e a Torre del Lago, città dove è nata e dove è iniziato il suo percorso musicale e il luogo dove stabilì la sua residenza di elezione. Puccini 24, vi ravviso o luoghi ameni, iniziativa culturale presentata alla Casermetta San Colombano e organizzata dal Centro Studi Giacomo Puccini e dalla Fondazione Simonetta Puccini. Le relazioni previste sono state selezionate, gli interventi approfondiranno tutti gli aspetti dell'opera del maestro, le fonti, le forme musicali, i problemi delle edizioni critiche, la drammaturgia e la messa in scena, ma anche il patrimonio documentario. Quella che si terrà da lunedì 8 a giovedì 11 luglio tra Lucca e Torre del Lago è la prima sessione di Puccini 24, la seconda è in programma a Venezia dal 2 al 4 ottobre. Il fatto che il Centro Studi abbia organizzato questo convegno insieme alla Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini è un segno importante perché la ricerca su Puccini da quando è aperto l'archivio Giacomo Puccini di Torre del Lago ha fatto una svolta e noi studiosi dobbiamo assolutamente andare nell'archivio, studiare e portare delle novità.